Penso che sia assolutamente un'innovazione utile a tutti, non solo a medici e personale che lavora, vive nell'ambito della medicina. Nello specifico penso che sia utile per esempio a tutte le famiglie che come noi, come molte altre hanno vissuto la difficoltà di avere un bambino disabile. Ho conosciuto Roberto e Francesca perché stiamo vivendo la stessa difficoltà di avere un bambino che ha avuto uno stroke per i Natale. Li ho conosciuti dopo la loro intervista con Vanity Fair e ho scoperto che non eravamo soli, che Mattia non eravamo e sapevo già perché ero un'infermiera, però parlare con dei genitori che stanno vivendo e hanno vissuto le stesse cose che hai detto tu è diverso dal percepirlo con le conoscenze scientifiche. E quindi Fight the Stroke rappresenta una rete importantissima per tutti noi genitori, una rete nazionale e internazionale in cui identificarsi e trovare nuove soluzioni per questi bambini.